Il 21% della presenza complessiva dei lavoratori migranti impiegati in agricoltura in Italia e in Puglia. Nella provincia di Foggia si concentra circa il 35% del totale regionale, dati che testimoniano l'essenzialità dell'apporto dei lavoratori migranti. Era un dato che per gli addetti ai lavori lo si conosceva, ma fare una ricerca scientifica vuol dire dimostrarne appunto la scientificità, pubblicare, dire pubblicamente che questo è il grande valore. Made in Immigri Italy, terre, culture, culture è il tema del focus promosso a Foggia dalla FaiCIS nazionale che presenta il volume realizzato dal Centro Studi Confronti. Con questo rapporto che presentiamo oggi tendiamo proprio a orientare il pensiero dell'opinione pubblica che il nostro Made in Italy non è fatto soltanto da braccia, da mani di lavoratori italiani, ma il contributo dei lavoratori migranti è strategico, essenziale. Ma non tutto funziona in termini di inclusione e integrazione, a partire dai ghetti che ancora insistono in territorio dauno. I ghetti non possono essere la normalità. I ghetti devono essere contrastati e devono essere date opportunità ai lavoratori che occupano questi spazi di essere integrati dentro le comunità. Made in Italy è un'eccellenza, non si può dare un'eccellenza che noi vendiamo in Italia e nel mondo sapendo che parte di quel lavoro, non tutto, ma parte è in situazioni che non si possono più portare avanti così. Eppure i fondi del PNRR ci sono oltre 114 milioni di euro solo per la Capitanata. Io aggiungo anche, non container, ma cerchiamo di portarli dentro i centri urbani, anzi di far riabitare quei borghi che si stanno spopolando.